non credo che abbia avuto grossi problemi l'unica cosa che ho saputo di si è che voleva laurearsi all'università bovina buon per lui tra l'altro siamo già in puntata ciao nick e ciao fabio bentornati a voi che ci state ascoltando come sempre sul classico power pizza io sono lorro come state molto molto bene bene io sono nick e là c'è un fabio antonelli che nelle ultime 138 puntate è sempre stato in power pizza non so a cosa vi stiate riferendo sì ci piace quel fumettista che si fa chiamare sì o quello dei cuccioloni però è simpatico quel tizio ormai ha intrapreso una carriera diversa era arrivato il mio momento ed eccomi qui finalmente chissà dado come prenderà questa cosa ma comunque dado deve prenderla come si merita sono palesemente quello che deve esserci di più in power pizza in your face dado questa faida non avrà mai fine e io ne sono molto contento grazie ma soprattutto prima di iniziare la puntata detto no che non ho intenzione di gettare nuovamente benzina su questa cosa e poi l'ho fatto comunque perché non riesco a trattenermi maledizione mi hai detonato the underscore tonato ma iniziamo comunque come tradizione power pizza leggendo dei grissini sì il primo oggi è di una persona che ringrazio moltissimo ovvero detesto il primo commento che ci scrive volevo solo dire che questa cosa della corsa al primo commento ha un po rotto e non fa più ridere potete smettere grazie di avere scritto questa cosa che si applica a qualsiasi piattaforma tra l'altro c'è la cosa della persona che arriva e scrive primo sul primo commento per tendenzialmente sbagliando perché non è quasi mai il primo commento è veramente iper stantia potete smetterla in più dopo aver letto questo bellissimo commento ho visto che la sua propic era una delle tre buffere di grosso guai a chinatown che tipo film della vita di carpenter quindi grazie sei una bella persona nice beh sai chi è un'altra bella persona chiunque firmi i suoi grissini con smettila con i commenti stupidi sempre per rimanere a tema che dice covid permettendo ma altri ospiti mi sono piaciuti soprattutto fabio antonelli e quello che fa la musica coi game boy mi scusi lui se non ricordo il nome team sensazione di imparare e probabilmente no non penso ci siano nuovi ospiti che inviteremo e quindi è andata così e fabio una volta possiamo provare a invitare sì o se vuoi sì ma è comunque bravo lui dai diamogli una possibilità caro fabio antonelli c'hai pure dei grissini sei arrivato preparato sì io ho un grissino ma semplicemente perché si collega alla domanda che farete tra poco e cioè quante pizza avete mangiato questa settimana bravo che sei preparato di solito lo facciamo prima dei grissini invece appunto per questa ragione aspettavo a chiederlo 100 marinare d'oro adesive al nostro ospite per la preparazione allora zelda piras che è tra l'altro un meraviglioso nome bel nome dice speriamo non facciano mai un pizza aspirasi ora io cito questo grissino perché quante pizze hai mangiato questa settimana fabio nessuna perché sono stato trollato dalla pizzeria aspetta cosa vuol dire essere trollati da una pizzeria ordinato una pizza e mi è arrivata una pinza va bene mamma pensavo ordinato una pizza mi è arrivato una piatto di pasta nel senso vabbè ok sono certo che tu possa aver mangiato quella pinza comunque con media soddisfazione no ci sono rimasto malissimo perché c'è immagino che ormai in tutta italia sia così ma quantomeno a roma adesso c'è questo nuovo trend della pinza con un enorme ingiustificatissimo orgoglio è la pinza romana quella storica quella che gli antichi romani mai mangiato sta pinza mai sentita nella vita e quindi tu ordini una pizza e ti arriva questa cosa con il tizio che si bulla di averti fatto fondamentalmente una pizza bianca con cose sopra ma non come la volevi tu tonda bella ok ma era buona almeno voglio dire non lo so come non lo sai l'hai mangiata o l'hai buttata dalla finestra cosa ero offuscato dall'odio wow l'unico sapore che riusciva a gustare in quel momento era il rancore tra l'altro c'è l'esito di questa interazione può essere dovuto a due cose uno il pizzaiolo voleva fare lo sghiggio e convincere i suoi i suoi clienti a provare cose nuove oppure fabio non si è minimamente reso conto di aver chiamato una pinzeria e poi si è lamentato ed è uno di quelli che scrive su trip advisor primo e quindi è problematico aspetta due domande l'hai ordinata tipo al telefono parlando con la persona o tipo tramite telefono tramite applicazione esatto ok ok e sì quindi non c'è l'errore non ci può essere perché dici c'è l'altro io vorrei ringraziarti per questi anni di continuamente insegnarmi l'italiano perché hai appena detto l'hai ordinata al telefono tramite il telefono sono due cose così distante l'importante è che si capisca la differenza comunque allora mi appiccico anch'io alla cosa che ha detto fabio per dire io ho mangiato due pizze invece questa settimana entrambe estremamente sobrie per i miei standard perché una era bianca con la bufala e i ciliegini e l'altra era una margherita con la bufala niente patatine fritte niente cose strambe questa settimana wow e ti sei sentito soddisfatto ugualmente sì sì stai bene avevo proprio voglia di pizze sobrie sono così fiero di te aspetta prima di essere fiero di me fabio ricordati che io non vivo a Roma quindi comunque c'è nel senso lo standard della pizza è un pochino diverso rispetto a dove vivi tu se ricordi in una puntata in cui sono stato ospite abbiamo avuto tutta una diatriba su smettila di autocitarti però ti supplico ma continua ad auto celebrarti per favore avevamo litigato sulla questione patatine e vista sulla pizza pertanto sono molto fiero di te per aver scelto degli ingredienti propri sempre rimanendo in tema oggi stiamo infilando i grissini come i veri pro nick bond dice abbiamo caospirasi che ti fa passare la voglia di mangiare la carne si ispirasi che ti fa passare la voglia di mangiare il pesce e power pizza che ti fa passare la voglia di mangiare lattosio vero giustissimo ma non è vero ci sono delle storie dell'orrore legate al lattosio in questo podcast e lo sappiamo tutti stiamo guardando te sì io ma quelle vere non le abbiamo mai potute veramente raccontare nel podcast perché sono davvero storie dell'orrore e anzi abbiamo tipo il podcast in cui due sutare esplodono se mangiano lattosio ma uno comunque continua a mangiarlo si parliamo del fumettista che si tiene il gorgonzola nelle tasche ovviamente e io volevo prendere il là datomi da questo grissino per dire che effettivamente ormai l'unica cosa che mi separava dalla totale veganità e dallo sviluppare i superpoteri era la mozzarella sulla pizza e l'ultima pizza che ho mangiato è la prima di una serie dove abbandono la bianca con i fri arielli ormai la mia pizza standard e la marinara con le melanzane fritte no cosa stai dicendo nick la nostra amicizia finisce qua fabio da adesso sei tu il mio migliore amico numero uno fabio da adesso sei entrambi i suoi migliori amici no allora ti stimo perché vabbè la scelta vegana è importante eticamente l'apprezzo e tutto quanto però no il formaggio sulla pizza nick cioè no 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 mi spiace non riesco a concepire la sua assenza perdonami beh proprio adesso che sto per imparare a fare i formaggi in casa wink wink ok beh comunque bravo ho emozioni contrastanti ma ti stimo per provare a fare questa cosa the real bill gates tra l'altro parlando di lattosio ci scrive informazioni di servizio per voi intolleranti al lattosio il brin non ne contiene la tecnica di produzione prevede l'utilizzo di una muffa che scinde il lattosio in zuccheri più semplici ed è quindi commestibile anche per voi sub umani al tag pizza per il sociale mi piace perché era un grissino molto istruttivo che però aveva una chiusa estremamente brusca e inaspettata quindi wow super acido complimenti mi è piaciuto moltissimo ha funzionato a quanto pare il brin in realtà contiene un tot di lattosio quindi per piacere non fatevi esplodere il culo per colpa nostra grazie molto bene e comunque tanto se io non l'ascolterà questa puntata l'importante che non lo sappia perché sennò oltre che alle tasche piene di gorgonzola avrà uno zainetto di brì perché ogni volta che qualcuno gli dice che un formaggio non ha il lattosio diventa il suo alimento principale per i successivi sei mesi quindi ma che sarebbe ottimo se davvero mangiasse il formaggio senza lattosio soltanto che poi quando scopre che il gorgonzola è senza lattosio prende il gorgonzola con il mascarpone dentro quindi già nel senso il problema di sì è proprio che non ha un minimo senso di autoconservazione vabbè lo amiamo così com'è abbiamo un ultimo grissino da leggere se non sbaglio esatto il buon fabbio ah oh diamine allora io dunque non ne avevo trovato nessuno ma ne metterò uno il signor zorro dice zeta l'avevo segnato anch'io è un bellissimo commento grazie signor zorro beh quindi in realtà chiusa la confezione e con chiusa intendo finita la confezione di grissini è subito il momento di lanciarci a testa bassissima nelle menus e prima che voi abbiate tempo di dire qualsiasi cosa avete visto il trailer del nuovo space jam oddio no e io mi sono perso tutta questa controversia orribile ah no tu parli di lola bunny nello specifico credo cioè la controversia vera io ero rimasta quella però lasciamo stare un attimo quella cosa che non voglio neanche toccarla da lontano con un bastone ma il trailer in sé vi prego finito di registrare questo episodio andatevelo a vedere perché a me ha lasciato estremamente dubbioso ma estremamente la sensazione a pelle era sai di quando prendi qualcosa di tra virgolette classico perché comunque space jam anche se non è un film di 50 anni fa è un classico un classico e cerchi di modernizzarlo ma lo fai in una maniera un po goffa tipo e la sensazione che mi ha lasciato il trailer era quello poi ovviamente guarderò il film quando uscirai quindi ma ne parleremo in un futuro prossimo allora non ho visto il trailer non ho letto nulla se non ho visto qualcosa che si accendeva su twitter e ho detto tipo poi in futuro ma la mia domanda è scusa space jam è un super classicone a cui vogliamo molto bene certo non importa che sia un bel o un brutto film non è importante era carino dai ma esatto ci sono pareri discordanti l'importante era non toccarlo esatto è un parte della nostra infanzia di bambini degli anni 90 ma scusa ma nel senso non è un po fuori tempo massimo come concetto più che altro nel 2021 a qualcuno gliene frega qualcosa dei looney tunes è quello è come se tipo il prossimo film fosse tipo che ha incastrato roger rabbit 2021 ma chi lo vuole vedere di nuovo è una meraviglia lascialo lì sì il discorso credo che sia più un'operazione nostalgia cioè sanno quanto è popolare comunque space jam nell'immaginario collettivo quindi cerchi di fare un attualizzare la cosa e poi l'esito di solito quando cerchi di fare queste operazioni in nostalgia spesso è disastroso però ehi mai dire mai quindi insomma vedremo quando uscirà qualche informazione in più io sono a metà del trailer di space jam ovviamente lo sto guardando adesso ovviamente muto posso dire fino adesso wow cioè ogni secondo succede una cosa sbagliata ma interessante cioè io immagino un meeting nel board di warner pross che dice allora ragazzi spider man into the spider verse ha funzionato lebron james ancora è su questa terra caratteristica fondamentale cioè boh mischia 14.000 cose insieme power pizza il podcast che critica i trailer mentre sei a metà del trailer stesso te lo stai guardando senza audio questo è il livello di attendibilità che vi potete aspettare da noi o dai nostri ospiti e la conferma che stiamo insegnando a una generazione intera a fare questa cosa vi prego non imparate mai niente da power pizza vi supplico sono così fiero di essere uno di voi ragazzi ma lasciandoci alle spalle space jam avevate delle menus carico hostess sì io ho una menus uscita proprio poche ore fa e cioè che il e3 ha annunciato che nel 2021 avverrà un e3 ma sarà completamente online a pagamento a pagamento credo di sì in realtà ovviamente non sono così tanto informato ma quello di cui sono informato sono i prezzi che stanno facendo invece ai publisher ok e alla grossa diciamo diatriba che sta uscendo fuori quantomeno le persone che ho sentito del settore che conosco negli stati uniti che probabilmente con questa mossa e3 si sta totalmente suicidando ah sì beh il discorso è questo nel senso che è una convention e quindi ah giusto tra l'altro per quelle due persone che non dovessero sapere cos'è l'e3 l'e3 è una manifestazione certo sia per la stampa ma anche per il pubblico che di solito viene tenuta in estate e che è una delle più grandi vetrine per il mondo videoludico per i publisher per le cose nuove che di solito viene tenuta dove tra l'altro a los angeles al convention center e ovviamente l'anno scorso non c'è stata per la prima volta because coronavirus e quest'anno invece la fanno digitale esatto però allora prima di tutto sono già due anni che sony non partecipava quest'anno almeno per adesso blizzard si è ritirata sega non ci sarà bandai namco non ci saranno square enix non ci sarà letteralmente tutte le cose che potevano interessare potrebbe essere la più grande manifestazione videoludica di giochi indie della storia perché non ci sono publisher tripla no no oddio cioè ovviamente c'è già nintendo xbox capcom konami ubisoft però il discorso è warner bros ma il discorso è che giustamente si sta dicendo perlomeno in queste ore a caldo il fatto che noi è un anno che vediamo lanci di videogiochi completamente online fatti dai publisher stessi infatti quindi se tu chiedi si parla di numeri a sei cifre delle richieste che hanno fatto i publisher per partecipare per avere un evento online che di fatto non ha la magia che aveva questi eventi e quindi vedere persone prendere gadget essere lì fisicamente quindi sì no esattamente visto che alle tre cioè nel senso la cosa è che quando c'erano gli eventi grossi la che cacchio ne so bethesda che presentava il nuovo gioco uguale agli ultimi 20 giochi già usciti aveva il palco con luci colori esplosioni e super hype fare la stessa cosa online la vedo un pochino dura onestamente ma soprattutto non in questa maniera non serve più l'uomo di mezzo come viene chiamato in inglese no cioè il questa piattaforma a cosa serve se poi di fatto io posso andare sul sito nintendo e vedermi il lancio da solo e di martedì che ne so pomeriggio gratuitamente sì sì che senso ha fare tutto insieme in cui poi oltretutto tutti i publisher dovranno fare a cazzotti per avere l'orario migliore eventualmente certo quindi si sta creando molto molto dubbio per carità è stata annunciata nel momento in cui registriamo 16 ore fa quindi a quindi dici che ci sono ancora le 24 ore per cancellarla subito e dire scherzavamo non facciamo davvero no no per cancellare i dubbi magari che ne so tra qualche giorno diranno no ma è la cosa più figa del mondo oppure che ne so square enix dirà ma noi avevamo pronto final fantasy 7 remake quello vero mi è piaciuta la demo esatto la demo della demo della demo e niente questa era la mia main news ok quindi la main news vera in pratica è teniamo gli occhi aperti e vediamo come evolve questa situazione medio lol di e3 esatto sono contento di non essere un publisher che deve sborsare mezzo milione di dollari per un evento online che magari non si considererebbero così tanto abbiamo altre main news oggi no però se vuoi ho delle me vecchie che non sono neanche delle news ok valgono comunque ma è l'argomento di cui volevo parlare oggi che mi arriva fra capo e collo perché arriva tutto da ieri sera ma sono talmente fomentato che ne devo parlare ne devo parlare subito aspetta ma quindi è il tuo main argomento o è una main news vecchia no è solo un argomento vecchio perché sono fuori tempo limite ok perché giustamente 2021 anno in cui finalmente tutti hanno il tempo e la possibilità di guardare le cose quando escono e quindi vado a ribeccarmi delle cose che sono uscite tipo originariamente dieci anni fa e il cui remake è iniziato nel 2016 cioè tipo è midnight diner tokyo stories aspetta aspetta ma midnight dinner è un remake cioè cosa allora non so se sia un remake sai che io uso delle parole a caso però stamattina facendo delle ricerche ho scoperto che midnight diner è iniziato nel 2009 la prima stagione e ha fatto tre stagioni 2009 2011 2014 e poi quello che sto guardando che si chiama midnight diner tokyo stories è iniziato nel 2016 quindi il mio cervello dato che non sono entrambe su netflix quella diciamo originale o quella iniziale non è riproposta su netflix eccetera mi viene da pensare che sia magari non un remake ma un'elaborazione su una cosa più vecchia ok ok adesso mi viene il dubbio perché midnight dinner continuerò a chiamarlo diner perché sono lor io l'ho visto ma a sto punto non so se ho visto quello più vecchio o quello più nuovo non lo so so che l'avevo visto e mi era piaciuto adesso sono curioso di sentire cosa ne pensi tu e tra l'altro seguendo il successo della versione giapponese che quella di cui parlerò stamattina ho appena scoperto che sono state fatte anche la versione cinese e coreana però si chiama late night restaurant penso che abbiano cercato l'unico modo di trovare tipo dei sinonimi senza toccare le parole originali del titolo comunque midnight diner io non so chi me ne avesse parlato non so se avete presente quella sensazione di qualcuno che vi dice oh ti piacerebbe tantissimo in un tempo non ben definito nel passato e tu una sera dici tipo ah qualcuno mi aveva detto che mi sarebbe piaciuto proviamo a guardarlo ciao qualcuno che me l'aveva detto nel passato grazie perché è bellissimo ok mi aspettavo un twist del tipo ah ti troverò e ti taglierò le gambe perché l'ho guardato e mi ha fatto schifo sono contento che ti sia piaciuto no ti troverò e ti darò un bacino sulla fronte ti regalo un mochi perché è bello allora midnight diner tokyo stories sono due serie da dieci episodi ciascuno che durano fra i 20 e i 30 minuti l'uno quindi sono molto piccolini e digeribili e sono delle storie che succedono all'interno di questa messia di questa tipo piccola isakaya ma stiamo parlando veramente di un master che è il tizio proprietario di questa isakayetta e di un banconcino che ha al massimo tipo sei o sette posti a sedere se non siete mai stati in giappone la dinamica di questi piccoli posti è letteralmente che entrate c'è un bancone all'interno del quale c'è il tizio che vi serve da bere da mangiare non c'è nessun altro che ci lavora e i posti a sedere sono appunto quelli intorno a questo bancone che appunto sono magari cinque o sei punt e la storia è quella di questa piccola messia che apre soltanto da mezzanotte alle sette del mattino nelle vicinanze di shinjuku non vi immaginate la tokyo shinjuku piena di persone e tecnologie eccetera in una delle viuzze defilate dietro esatto esatto e tra l'altro c'è nel senso anche tutte le riprese della serie almeno nella prima stagione sono tutte in quei paraggi non si vede la tokyo che vi immaginate se non dai titoli di testa e dai titoli di coda comunque si susseguono queste vicende in ogni episodio che sono completamente slegate fra di loro ci sono dei piccoli riferimenti tra un episodio e l'altro perché ci sono degli avventori che sono frequenti gli abituoi esatto esatto che i frequent flyer che fanno un po da sfondo alle vicende ma ogni episodio ha una sua storia un suo arco narrativo che si conclude tutte le volte e che non direi una sua morale però ha un suo messaggio cioè un qualcosa di molto leggero di molto delicato che passa sempre sotto esatto più delicato perché in realtà ci sono anche delle tematiche un pochino più serie però sono sempre trattate in maniera molto dannazione non volevo ripetere delicato ma non mi viene un sinonimo allora premetto che guardare questa serie mi ha fatto venire una nostalgia per il giappone incredibile anche solo per il fatto che una delle cose che collega i vari episodi e che tra l'altro gli dà il titolo è quello che viene cucinato ok nel senso in questa mescia il master dice in tutte le puntate più o meno che lui ha un menù con quattro cose sopra come succede in tantissimi piccoli ristoranti giapponesi ma che siccome c'è solo lui in cucina e le cose vengono fatte al momento tutte le volte lui cucinerebbe volentieri tutto quello che gli avventori chiedano a patto che lui ne abbia gli ingredienti tanto che in alcune puntate ci sono delle persone che gli portano degli ingredienti per fare delle cose che è una cosa che io ho visto fare in giappone e che mi piace tantissimo a me è capitato di essere in un posto dove qualcuno è arrivato dicendo tipo ah ti ho portato quella cosa da provare così la cucini e le persone la cucinano e se la mangiano insieme il proprietario è il cliente comunque sono tutte piccole storie che parlano tantissimo di giappone tantissimo di cultura giapponese anche non in maniera diciamo urlata ma nella sottotrama si vive proprio tanto giappone ma allo stesso tempo che trattano come dicevo prima quei temi delicati che ti lasciano almeno a me personalmente un enorme senso di pulizia io quello che sento dopo le puntate è tipo wow che nostalgia del giappone che pulizia emotiva che ho dentro che bello che mi sta piacendo tantissimo guarda è bellissima questa cosa che dici nel senso nel periodo storico che stiamo vivendo io nelle ultime settimane sto iniziando ad avere una enorme mancanza del viaggio e del mix culturale del trovarti in una situazione come quella che stai descrivendo e quindi di essere in un mondo completamente diverso che però ti senti tuo perché ci hai vissuto in qualche maniera e ti giuro mi stai descrivendo proprio una cosa della quale avrei bisogno in questo momento tra l'altro il ricordo che ho io di questa serie la cosa che mi era piaciuta di più è che nonostante sia molto giapponese perché cioè sia il setting che i personali cioè è estremamente giapponese ma l'avevo trovato molto poco giapponese per come trattava certi temi e per certi temi che trattava cioè banalmente tipo gli avventori di questo locale con appunto il fatto che sono tra virgolette il popolo della notte quindi magari non proprio il colletto bianco la persona certo ordinaria che vive di per strada ma magari quello con la vita un pochino più disordinata o il frico comunque la persona un pochino più atipica allora parliamoci chiaro il giappone non è un paese così aperto mentalmente verso tutta una serie di cose molto poco molto molto poco allora non arrivo a dire che questa sia una serie iper progressista e tutto però anche solo l'avvicinarsi a certe tematiche a un certo tipo di umanità diversa dico tra virgolette non è una cosa che mi aspetto per forza da una cosa giapponese e questa serie mi sembra che lo facesse anche se in maniera contenuta abbastanza bene ed era una cosa che mi era rimasta sì figo tra l'altro ultime due cose che aggiungo cioè la trovo rinfrescante come scelta narrativa quella che hanno adottato nelle varie puntate perché non mi sembra mai che vogliano far piacere a chi guarda le storie non sono trattate nel modo di dire tipo dai che la volevi questa storia dai che sai un po come va a finire ti presento tra virgolette l'eroe o ti presento l'avversario o ti presento la persona buona o ti presento la persona cattiva e sappiamo che a un certo punto verrà sconfitta no anche perché sono storie molto più piccole molto più umane se vuoi ma che potrebbero andare in quella direzione adesso me ne vengono in mente un paio in cui potrebbe esserci una risoluzione degli archi narrativi dei personaggi in un determinato modo che abbiamo visto centomila volte e quasi mai va in quella direzione e l'ho trovata sempre una cosa interessante tanto che veramente arrivi alla fine che ci arriva sempre con quella sua delicatezza e ti lascia qualche secondo per pensarci in più tra l'altro nota super carina alla fine i personaggi principali della storiella che viene raccontata nell'episodio poi fanno una rottura della quarta parete e salutano chi sta guardando ah non me la ricordavo questa cosa cioè facendo una piccola gag e parlando sempre della ricetta che ha fatto un po da fil rouge all'interno dell'episodio e lo trovo una cosa super carina veramente ultima nota poi do un voto la regia è super ben fatta ma proprio tanto cioè con un setting iper semplice però è incredibilmente coesa nel senso che si vede proprio che la stessa mano e la stessa serie adesso mi viene da dire una cosa stupida ma vedessi un frame a caso riuscirei a dire se fa parte di questa serie o meno si l'atmosfera era super gestita bene cioè a livello di tono e di atmosfera ed era sempre coerente tra i vari episodi comunque sì assolutamente sì e molto bella io sono arrota di questa cosa come dicono i giapponesi sì esatto quasi finita la prima stagione iniziamo subito la seconda appena finiamo la prima ci sono entrambe su netflix e se potete audio originale sì sì vi supplico audio in giapponese sottotitoli nella lingua che volete perché veramente c'è così tanto di più nel sentire questa serie ovviamente recitata in lingua originale tra l'altro togliersi il cappello attori bravissimi e soprattutto non gli attori belloci c'è della gente normale sì 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 proprio bello e per quello che mi crea così tanta nostalgia del giappone e tra l'altro prima che tu dia il voto la mia cosa prefe della serie era appunto il capoccia il padrone di questo posto fantastico di pochissime parole con tipo una cicatrice in faccia che dice avrà di sicuro un passato interessante ma non sai praticamente nulla di lui ed è fantastico cioè il miglior tra virgolette protagonista silenzioso che potessero mettere di questa cosa sì perché lui effettivamente interpreta una figura che per la società giapponese è super importante cioè in una società dove le persone già si parlano poco c'è tanto la questione di creare un certo tipo di rapporto intimo e di confidenza con le persone che poi ti danno da bere da mangiare si tramite anche il non detto e tutta una serie di sottintesi di cose perché è comunque una serie giapponese ovvio comunque io la trovo bellissima è una cosa di cui avevo assolutamente bisogno e che mi sta piacendo un sacco quindi nove fette di pizza senza nessun dubbio wow ok ma che pizza esatto però ogni fetta ha una ricettina diversa quindi ad esempio c'è la fetta con la zuppetta di miso c'è la fetta con gli umeboshi c'è la fetta con la donburi con sopra il tofu e l'uovo c'è la fetta con la cotoletta di maiale non è più una pizza questa cosa ok ma è una cosa che non sapevi esistesse di cui hai nostalgia perché nel tuo passato a quanto pare mangiavi delle pizze orribili ma soprattutto che ti fa piacere una bella sorpresa ok ok comunque i tuoi voti in pizza sono migliorati da dai mazza fette di pizza con gli ingranaggi era una volta migliorati dopo questa cosa ok ok fabio ho una domanda per te sì quanto hai voglia di parlare di ciò di cui vuoi parlare oggi in una scala da 1 a 10 guarda posso essere abbastanza rapido se vuoi non ti preoccupare vai allora ok così lascerò il mio argomento come chiusa dell'episodio allora io parlo di una cosa che non tutti i proventi vi aspettate che io parlo di qualcosa è legato alla musica no non farò così aspetta perché ci dovevamo aspettare qualcosa di relativo alla musica ma non lo so perché sono un calciatore questo è il mio mestiere wow questa gag non è riuscita come me l'ero immaginata lo so ha ragione fabio forse meglio che parli di musica allora no volevo dire io sono un mega appassionato di documentari adoro i documentari tantissimo e recentemente proprio questa settimana credo sia stato caricato su netflix un documentario del 2018 si chiama three identical strangers ok e non so se ne avete mai sentito parlare ho solo sentito il titolo ma non ho minimamente idea di che cosa tratti no infatti è un documentario molto interessante molto bello molto ben fatto e anche molto inquietante ok aspetta la mia domanda è che cosa ti fa passare la voglia di mangiare questo documentario le persone uguali fra di loro è contro il cannibalismo ma tantissimo prende una posizione importante comunque dicevo che questo documentario principalmente si apre in una maniera assurda parla di la storia vera di questo ragazzo che va al college all'università e il suo primo giorno di università al campus tutti lo salutano e sono super mega calorosi e affettuosi con lui ok fino a che la decima persona che lo saluta lo chiama con un altro nome ok ok slightly creepy ok ed esce fuori che lui a 19 anni scopre che fino all'anno prima in quelle università c'era il suo fratello gemello what lui era un ragazzo che era stato adottato wow e a quanto pare erano stati separati alla nascita senza essere stati informati di nulla ah cioè lui non aveva neanche idea cioè non era solo la sorpresa di ah mio fratello gemello veniva a scuola qua ma era non sapevo di avere un fratello gemello ok wow questa storia diventa una storia incredibile americana parlata da tutti i giornali della zona e quindi il giornale riceve una telefonata da una terza persona che è anche lui un gemello di questi due cosa wow ok a set c'è del tipo il giornale pubblica la foto e questo dice guarda questa persona uguale a me ok wow esatto e quindi in poche parole si riuniscono dopo 18 19 anni questi tre gemelli che sono stati separati alla nascita e diventa un caso incredibile wow e loro diventano mega famosi sono sempre invitati ok aspetta quindi stiamo parlando di una cosa realmente accaduta assolutamente sì hanno anche partecipato in un film con madonna wow ok ok fino a che però ecco e qui è veramente il documentario il quale non parlerò troppo da questo momento in poi ve lo lascio diciamo assaporare fino a che principalmente però esce fuori l'assurdità di questo fatto e del fatto che loro in realtà erano parte di un esperimento psichiatrico cosa in cui loro erano stati in maniera diciamo dichiarata divisi ok e non era stato informato nessuno né le famiglie né niente cosa studiavano aspetta quindi cioè non è che tipo la famiglia aveva dato il benestare per separare i gemelli assolutamente no ok ma quindi è una cosa tipo iper criminale oltre che c'è tipo tragica esattamente wow e appunto è facevano parte in poche parole di uno studio diciamo sul genere umano e sui gemelli identici identical twins non mi ricordo come si dice in italiano e niente diciamo ecco il documentario da che è una cosa incredibilmente assurda e anche stupenda se vogliamo perché poi questi tre ragazzi si rincontrano diciamo anni e non solo hanno le stesse fattezze ma hanno gli stessi comportamenti e soprattutto hanno gli stessi gusti in termini di cibo anche se loro sono cresciuti in tre famiglie completamente diverse ah quindi lo studio è andato a buon fine hanno confermato quello che no è comunque c'è super creepy come premessa cioè cosa e quindi niente è un documentario super mega interessante ecco diciamo non è felicissimo quindi se volete passare una serata in cui poi puoi distrarti dalle cose brutte della vita forse no ma mi è piaciuto molto è molto ben fatto e proprio per questo fatto gli do sette anzi facciamo otto fette di pizza di una pizza che ti hanno regalato e non ti aspettavi che te la regalassero e quindi sei super mega felice conosco la sensazione ma mentre la stai mangiando il pizzaiolo ti dice oddio scusa ma hai detto che sei allergico ai latticini vero? Carca miseria! Oh no conosco la sensazione! Esatto! Wow! Posso perché mi incuriosisce la cosa però prima di vederlo in una scala da una dici quanto è un pugno nello stomaco questa cosa più che altro perché cioè se nella premessa c'è il discorso di esperimenti fatti su persone inconsapevoli bambini separati dalle proprie famiglie cioè nel senso mi viene un pochino di brividino onestamente sei facciamo sei ok tollerabile diciamo sì nel senso che comunque oggettivamente oggi netflix e tutte le piattaforme ti offrono se vuoi una lista infinita di pugni nello stomaco questo è un pugno nello stomaco medio insomma è un po' uno schiaffo sulla panza d'estate hai presente quelli che ti lasciano il segno della della mano proprio sull'ombelico è quello non è proprio un pugno ma esatto ma è imbarazzante per un po' di minuti è vero ok sono curioso per tipo tutte le domande che adesso ho e che invece che farle a testo appunto vado a vedermi il documentario direttamente hai detto che su netflix giusto? Sì su netflix nice sapete cosa invece non è uscito su netflix ma è uscito su hbo max e no non è lo snyder cut state tranquilli io so di cosa stai per parlare io sapevo godzilla versus kong i losauri versus scimmioni no allora vi ricorderete se siete ascoltatori di lunga data di power pizza che mi ero guardato con medio piacere il godzilla del 2014 di garete edwards confermo e mi ero guardato con molto meno gioia il seguito che era king of monsters io mi ricordo un tot di anni dopo che era veramente una merda confermo ci ho anche provato a riguardarlo ma faceva veramente pettare forte ora la premessa di questo film è iper semplice nel senso che in king of monsters non so se l'avete visto ma potete anche evitare si stabilisce che godzilla è il super mostrone alfa e sulla terra sembrerebbero essere rimasti solo due titani ovvero lui e kong e per evitare che l'uno con l'altro si cerchino per prendersi a pizza in faccia sfasciando di conseguenza tutto quello che gli sta intorno kong lo tengono in questa sorta di mega cupolone alla true man show no con il cielo finte e tutto quindi tutto bello se non fosse che in questo film a un certo punto a godzilla gli gira comunque male e attacca pensacola in florida facendo un solito casino palazzi distrutti raggi atomici sparacchiati in giro e distruzione e tutto quanto cosa sarà successo come maya gozilla sarà girata male è l'incipit da cui si parte allora io vorrei dirvi che la trama sia sensata o vagamente intelligente ma la verità è che no cioè veramente è un film stupido come un sasso ed è qua il twist della cosa perché stranamente non è un film sgradevole questo cosa cioè dura poco meno di due ore ma tutto sommato scorre bene ok è un bel film no 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 però per me a salvarlo sono state due cose uno l'estetica sembra una cosa da poco ma non lo è ok ovvero dopo godzilla king of monsters che è quello con ghidora motra e compagnia bella che io mi ero guardato solo perché ci sono i mostroni classici dai come potranno avere rovinato una cosa genere spoiler l'avevano rovinato esatto e l'estetica di quel film cercava ancora di copiare l'estetica del godzilla di gareth edwards che era tutto più grounded colori più realistici shot dal basso azioni di notte che non si capisce una ceppa eccetera eccetera finalmente in questo abbandonano ogni pretesa di realismo e diventa tutta una roba di colori ipersaturi palette neon che però c'è nel senso ci sta mille volte di più non so avete visto pacific rim certo ok no ma prego richiama di più pacific rim cioè nel senso anche le scene di notte sono comunque sempre chiaro quello che succede e non ha più la pretesa di dire guardate come tutto è realistico no è tutto quasi cartonesco in una maniera che io ho trovato positiva e la seconda cosa che per me è un lato super positivo è il fatto che questo film abbraccia in pieno di essere una cialtronata e mi ha fatto venire in mente un po' se ci pensate i film classici di godzilla nel senso che se togli il primo film di godzilla che è un film serio sulla paura post atomica eccetera eccetera tutti gli altri sono film di mostroni che combattono tra di loro in maniere bislacche forse stiamo arrivando a questo punto cioè abbracciano questa cosa che è questo che si vuole da un film di mostroni a meno che tu non abbia uno script fatto come dio comanda ma che guess what non c'è quasi mai il punto debole di tutta questa baracconata è come al solito che i protagonisti e lo dico tra virgolette umani sono inutili sono degli idioti nel migliore dei casi sono sgradevoli e fastidiosi nel peggiore come nick to king of monsters l'avevi visto giusto certo come faccio a dimenticarmi quello proprio quella cosa fastidiosissima io ti ricordo che non ero neanche riuscito a finirlo ci avevo riprovato tipo altre due volte non ero mai riuscito a finirlo il problema grosso erano appunto che l'elemento umano era cioè nel senso dice perché per fammi vedere questi mostri del cacchio che si prendono a schiaffi cioè tanto non avete un copione scritto bene non avete una storia interessante quindi non provateci nemmeno e in questo fondamentalmente se togli le parti con millie bobby brown che secondo me si dovrebbe cercare un nuovo agente perché non possono continuare questo a 14 anni smettetela di proporre sono film orribili e gli altri personaggi che sono tutti inutili e iper sgradevoli togli loro quello che rimane sono dei set piece abbastanza creativi con gozilla e kong che lottano tra di loro sai che c'è non mi ha fatto schifo e l'ho guardato abbastanza volentieri come film e non me lo sarei minimamente aspettata cioè rilassata sì cioè abbandona ogni pretesa di essere un film vero cioè a sto punto mi chiedo perché continuino a cercare di elevare una sceneggiatura inesistente e non iniziano veramente a fare solo dei clip show di un'ora e mezza con questi mostroni che si picchiano tra di loro perché cioè onestamente o hai un copione su cui costruire un film o se non ce l'hai cioè a sto punto paga semplicemente i tizi che ti fanno gli effetti speciali e boh siamo a posto ma che tra l'altro cioè io mi immagino che ci siano degli executive che dicono tipo eh no senza l'elemento umano non si può empatizzare con i personaggi di questo film ma non gliene frega nessuno di empatizzare con gli umani di questo film cioè è bello empatizzare però per empatizzare con dei personaggi cioè appunto ti serve di avere dei personaggi che hai scritto con un minimo di attenzione se questo passaggio non c'è magari puoi fare a meno di provarci tipo ma infatti se pensi un attimo a quali sono le cose che ti rimangono di tutti questi film sono letteralmente il fight combattimentone tra i kaiju tra i robottoni tra le cose c'è anche pacific rim che non è sto gran film ma il primo non è male il secondo è inguardabile no il secondo non esiste non c'è mai stato però il primo fa esattamente quella cosa che stavo dicendo cioè è consapevole di quello che è ed è quello che lo salva è quello che eleva pacific rim ok pacific rim sa benissimo che cos'è mi puoi dire solo se tra gli umani anche di questo film c'è il buon ken watanabe che a un certo punto fa gojira no non c'è perché è la mia scena preferita di qualunque film in cui ci sia gozilla o kong tra l'altro perché se c'è qualcuno fa gojira è l'unico essere umano che effettivamente è quasi necessario ma no purtroppo non c'è ken watanabe quindi completamente inutile la razza umana non dovrebbe esserci in questo film dovrebbe essere tutto ripreso almeno a cinque metri da terra in modo che tutto il plafone umano sia inesistente e fuori inquadrutura il plafone umano esatto ok e tra l'altro appunto la cosa appunto bella è che nelle scene d'azione quindi con kong godzilla e qualcos'altro si scontrano tra di loro non dirò di più perché per me è stata una sorpresa e insomma la befana o maledizione l'hai spoilerato era la befana comunque la cosa bella è che è un pochino più fantasioso rispetto a per esempio king of monsters che erano veramente solo cose tutte scure che si prendevano a ceffoni nella notte non si capiva una vacca qua c'è un pochino più di fantasia non è ancora una cosa esagerata o iper divertente come pacific cream però ci hanno provato un pochettino di più e visivamente è piacevole quindi questa cosa lo salva moltissimo secondo me domandona prima che dai il voto ma tu skyland l'avevi visto sì ah ok perché non ne hai parlato io non l'ho mai visto e non so se sia un film carino o meno però anche in quello se non sbaglio è scimmioni versus lucertoline questa volta anziché dinosauroni diciamo che skyland fa una cosa che qua portano ancora di più all'estremo ovvero introduceva l'elemento weird qua veramente ci sono delle cose del tipo da viaggio al centro della terra e in skyland iniziavano a fare quella cosa il problema di skyland è che appunto c'era tutto l'elemento umano che era una cosa imbarazzante qua c'è un po di meno e puntano un pochino di più appunto su questi per smettere di continuare a dire set piece come li posso chiamare pezzi di set questi pezzi di set dei gran bei pezzi di set prima di dare un voto dirò solo la mia cosa preferita è la mia cosa schiferita del film ok allora cosa preferita è la sorpresona di cui vi dicevo prima la befana esatto esatto un'altra ce n'è un'altra oltre la befana non è una sorpresona esagerata però se siete fan made di gozilla io non lo sapevo e ho detto ah guarda che sorpresa piacevole che grazie al cielo non hanno messo nel trailer visto che di solito spoilerano tutto nel trailer cosa schiferita è che ci sono degli scienziati in teoria nel film ma sono tutti stupidi come dei tonni e quindi tipo quando vedono delle cose che ti dovrebbe fare esplodere il cervello ci sono completamente disinteressati nel centro della terra in realtà c'è un'altra terra con delle regole tutte diverse nessuno gliene frega niente è letteralmente tipo la più scoperta più importante dell'umanità cioè nel senso altre cose che c'è tu che le guardi ti chiedi aspetta ma perché nessuno commenta questa cosa che sta succedendo cioè è letteralmente mind blowing e invece no non gliene frega niente a nessuno e sono scienziati e vabbè ah marco abbiamo inventato il viaggio nel tempo ah vedi esatto 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 ma che favo per pranzo ah vedi ma per pranzo che se mangiamo comunque questo film per me si becca sette fette di pizza con sopra gelato e nutella a me onestamente non piace granché la pizza con sopra il gelato e la nutella ma qualcuno potrebbe trovarla molto gustosa onestamente quello che posso dire è un passo nella direzione giusto per questa tipologia di film a mio modestissimo parere wow che figata speriamo che ne facciano degli altri che abbraccino sempre di più l'idea full stupid di super mostroni che combattono tra di loro o che iniziano a scrivere dei copioni veri sappiamo che una di queste due cose non succederà quindi cosa dobbiamo farci se abbiamo imparato qualcosa da questa puntata di power pizza o dall'ultima recensione che ha fatto l'orro e che non scrivete scienziati all'interno dei vostri copioni lasciate perdere cioè fate le stesse scene però tipo con due kebabari che dicono tipo centro della terra che figata boh bella io continuo a tagliare il mio kebab e ha molto più senso sì assolutamente il contrario sì anche perché poi c'è in questo film ecco la cosa che non ho detto c'è un elemento borderline complottista che mi aspettavo che alla fine del film non so diventasse una punchline cioè qualcuno tipo ribaltasse la cosa e dicesse che fesseria questa cosa e invece no non accade questa cosa e quindi dici che lieve disagio che sto provando però vabbè nel complesso è comunque meglio di king of monsters quindi ci sta se volete qualcosa di full stupid tra l'altro non vedo l'ora che esca la snyder cut di questo film che dura sei ore e mezza e che esplora la vita e la carriera scientifica di ognuno di queste persone di colpo acquistano un sacco di senso e sarà solo in colori vaporware perché bianco e nero non lo possono fare comunque si hbo max c'è veramente con quella cosa che lo snyder cut è stato comunque un successo a livello di come è stato ricepito da critica e pubblico boia adesso stanno facendo uscire la qualsiasi o comunque hanno annunciato che usciranno una caterva di robe su hbo max è la vera guerra fra titani era quella fra i servizi di streaming è proprio vero è vero bene quindi se non avete altro direi che questa puntata ci ha insegnato che tante cose ci ha insegnato tante cose sicuramente ma soprattutto ci ha insegnato che vi avevo detto che alla fine di ogni episodio volevo trovare una morale tipo un fil rouge dell'episodio no gli scienziati sono stupidi sia quelli che tipo seguono i kaiju sia quelli che dividono i gemelli identici alla nascita e boh sia quelli che sono sicuro ci saranno nella seconda stagione di questo midnight diner che ho recensito fatta pronta e soprattutto questa puntata ci ha insegnato che se qualcuno ci dimostra dell'affetto e ci vuole molto bene conviene chiedergli se sa il nostro nome perché potrebbe volere bene al nostro gemello quindi grazie per essere stati con noi anche oggi grazie a fabio antonelli che da oggi sostituirà per sempre per tutte le puntate sia che non tornerà mai più e grazie a voi che ci avete ascoltato sia ascoltatore vanilla che le persone che ci iper sostengono su patreon grazie mille per il vostro imperituro supporto su www.dateci deisoldi.com tra di voi si celano le persone super mega supportevoli non so più come dirlo però persone la cui gratitudine la cui mia gratitudine va è bello perché ero riuscito a tenere stringata questa cosa e poi ti sei impilagato in questa cosa da cui non sai più come uscire ci sono i nostri calzon che sono delle persone che ci supportano tantissimo come byza.it conoscete il cugino musicista di quentin tarantino quentin mandolino oppure conoscete il cugino dalle battute pungenti di quentin tarantino quentin porcospino per non dimenticare conoscete il cugino pizzetar di quentin tarantino punto interrogativo quentin temporino e anche ehi pizzaioli culo e la botte veicola di padova nikki e maesce paolini subramania e once upon a sam episodio 6 il ritorno dello calzone grazie grazie a tutti i calzon grazie a voi che ci avete ascoltato come al solito su www.powerpizza.it ricordatevi che su instagram escono ancora i nostri ig tv settimanali che vorrei dire che sono informativi ma la verità è che non lo sono molto ma comunque li trovate su at power pizza podcast 1 1 1 2 2 2 3 3 3 e molto spesso magari non spessissimo ma spesso ci trovate tanto spesso ultimamente vedremo ci trovate sul nostro twitch a cui potete arrivare semplicemente andando su www.powerpizza.it oppure cercando power pizza podcast su twitch tra l'altro arrivati alla conclusione di questa puntata vorrei fare una piccola postilla e dire se non conoscete fabio antonelli o bravo 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 male 1 2 fabio antonelli non solo ha una voce soave e un'incredibile capacità di reggere qualunque conversazione con garbo e felicità ma è anche un compositore musicale della madonnona nonché l'host di uno dei podcast miei preferiti che si chiama suona tipo bene che proprio adesso è arrivato al finale di stagione numero 1 corretto quindi andatevelo a trovare ma dove ti possono trovare fabio molto semplicemente su www.ilpodcast di fabio.com sono lieto che tu continui a utilizzare questo sito se io non c'entra nulla con questa cosa se io non c'entra assolutamente nulla è questo ovviamente il podcast come diceva si chiama suona tipo bene su tutte le piattaforme e dopodiché fabio antonelli.com instagram ovunque insomma mamma mia io sono nel vostro cuore è vero quindi grazie fabio grazie nick ma soprattutto grazie all'orro e grazie a voi che ci avete ascoltati power pizzators ci vediamo nell'after show per tutti gli altri pizza e chiudo ciao 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 www.unpodcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio punto com www.unpodcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio punto com